Siamo tornati in Vietnam, ragazzi, su Rising Stone 2 e da un fracco di tempo che non gioco questo gioco me ne è venuta una voglia a Marta. Ho visto che continuo a pacciarlo, ovviamente, come sempre. Non avevo dubbi a riguardo, l'hanno sempre fatto a Torred Orchestra e sicuramente continuano a farlo con Rising Stone 2. Giorando come americano, una mappa ricco, penso sia una mappa custom. E niente, sono mitragliere, noi stiamo difendendo in questo momento. Ho diventato partita in corso, ma sono anche abbastanza confuso, non so cosa sta succedendo, onestamente. Quali erano i tasti per togliere? No, questo qua è per spottare. Mi faccio a togliere il... Mi sono risposto da solo. Guarda, abbiamo della gente di qua. Il compagno lì è morto. Abbiamo perduto il bravo. Rituriamo alla zona di combattia. E adesso devo tornare. Oh mio Dio. Ok, indietreggiamo. Ma però c'erano nemici, diceva, sono un tizio che sta girando, tipo, un po' di qua e di là. Qua possiamo fare un bel fucco. Ma dai, non ci credo, stavo smitragliando quel tizio. Vabbè, lasciamo perdere. Sta mappa è stranissima, devo dire. Che tipo... Cioè, ero lì su A, quel C, A, no, A, B, che sono nei due lati, diciamo. C, a centro, provando Dio. Ok, ok, ok. Ora ho capito. Però c'è uno che sta sparando all'impazzata con... Devo fare ancora i gameplay con l'helicottero, d'altra cosa. E poi ci sarà l'occasione. Dovrebbe essere morto. Cioè, io spero sia morto. Più di questo non è che posso tirare, infatti no. Qui è un po' di visuale, a quanto fa. Però vorrei entrare nel bunker, forse è meglio. Non dimmi che posso venire pure da qua sotto. Vediamo subito. Immagino di sì, infatti. Immagino proprio di sì. Dobbiamo guardare qui. Il bunker laggiù è un po' meglio per fare ciò. Quindi andiamo subito, infatti a voi ricarichiamo... Ah, devo farlo... non posso farlo in movimento. Ok, allora corriamo qui, quindi... Siamo pronti a far fuoco. Tanto c'era un po' di colpi qui all'interno, quindi... Deve essere un cento... cento, un M60 se non erro, quindi... Allora, dov'è l'entrata di questo bunker dannato? Di qua, perfetto, nella spuncea. Digiavo il bunker. Eccolo qua. Ah, shit, sorry, buddy. No, assolutamente c'è Kini in giro, quindi... Se muoio non mi meraviglio. Charlie is being attacked. Abbiamo ucciso un RPG, fantastico. Carichiamo. 3 kill, bellissimo. Charlie is being attacked. Ah, c'è Kini, l'avevo sentito. C'è più che c'è Kini con l'SKS, però vabbè. È abbastanza preciso da farlo fuori dalla distanza. Charlie is being attacked. Qua giù c'è un tunnel. Che non è bene una buona cosa. Vedete, voglio cercare di capire se ho visuali sui nemici da qui. Quello l'ho visto ma si è scampata. Ah no, ancora lì, aspetta. Ho avuto il paletto durante i miei occhi, no? Qua è giusto. Ne cerchiamo di andare un po' sul fronte e... fare la cosa di utile da giù. No, non passi, mi dispiace. Mio Dio, gli ho stragiati. Stai attenti alle spalle qua. Purtroppo qui non vedo nulla. Ma dai, Cristo Dio. Come fai a bruciarmi così? Ok, ricominciamo. Oh, è pieno, è pieno, è pieno, è pieno, è pieno. Levatevi, levatevi. Devo spostarmi, sennò mi cecchino, no? Giocare di questo gioco non è più niente semplice, a mio parere. Ma è qui con il sacchettino che un po' ci protegge. Spero sia morto. C'è tanta copertura, quindi devi beccarli proprio subito, al pieno possibile. Non so se sia morto o meno. Ancora vivo, e che diamine. Stai in quel bunker lì. Un po' lagliato. Delta è stato attaccato. Sono qui, purtroppo. Purtroppo sono qui. Eccolo, levati, levati. C'è un altro, c'è un altro. Mi sa che è lo stesso che non l'ho ucciso. Stai in famiglia. Non posso neanche attraversare. Stai in famiglia. Stai in famiglia. Stai in famiglia. Voi cazzo! Una granata per la quale ce la sbattiamo L'ho vista tantissimo La nostra leata è morta pure malamente Da dove? Riproviamoci L'AC 47 in basso, prendi sovrappato! Ecto è stato attaccato L'ho visto, l'ho visto appena spuca di nuovo Ah, maizio Infortunato Mangiatela Mangiatela Ma com'è possibile sovrappato? Manezione Dai, forza, forza Allora Spera non stiamo anche dietro di noi perché sono alla fine Forza singolo Forza singolo Intento parlare a qualcuno e mi mette la mita Ma dov'è? Mortacce sua Dai Ok, stiamo prendendo terreno fortunatamente Ecto è stato attaccato Oh, Cristo Fer Sto tipo è un po' scanto all'uso Però la mappa non mi sembra neanche semplice da difendere, in tutta onestà Ora abbiamo l'ultimo punto da difendere, qui che è Foxtrot Abbiamo un mitragliere pesante, lì, una metatrice pesante Penso sia più una metatrice antiaerea che altro Molto simile a quelle antiaeree, ovviamente Immagino che da qui loro possono venire Ma forse no, perché tanto filospinato, non so se qui le margini... No, no, secondo me possono farlo tranquillamente, altro che Cerca di capire Uff, ho fatto via una paura Però sta roba qui è da fuzzare Ecco, li arrivano Levati, 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 corri O te ne vai, o te ne vai Non la sniperare, altro che Non si può fare nulla Niente, no, controllano purtroppo Ok, proviamo a... Dobbiamo andare su Foxtrot, non c'è molto altro da fare Cavolo, una faticaccia sta salita, una maniera Pazzesca Ho bisogno di uomini su Foxtrot Forza, forza, forza Allora No! No! Riparo nei bunker, riparo nel bunker Cavolo Corri indietro, corri indietro Qui non c'è riparo Un'arto, una mano Ok, finita l'artiglieria Ora, assalteranno sicuramente Aaaaah, colpi in testa da dove? Cosa è? Un fuoco del K Vedo su un giro o cosa Mio dio, che massacro Ma c'è, non riesco più nulla Sono ovunque Bastardo No, no, chi si arrende Dov'è la mia baionetta? Datemi la baionetta, manizione Non mi ricordo neanche dove si mette Forza Manizione Mi sponchillano No, c'è il chiaro Mio dio Che disfatta Ma... 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 Ma...